Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova batteria di domande. Siete pronti? Cominciamo subito con la prima. Da chi nasce la pedagogia dell'errore? Popper. Seconda domanda. Quali capacità acquisisce il bambino durante lo stadio operatorio concreto per piacere? Reversibilità, compensazione, addizione e sottrazione. Terza domanda. Per Goleman l'intelligenza emotiva può essere distinta in due competenze, quelle personali e quelle sociali. Quarta domanda. Per metacognizione si intende? La conoscenza e il controllo dei propri processi cognitivi. Quinta e ultima domanda in inglese. I do work at home. E l'otto off. Bene ragazzi, con questa domanda in inglese per oggi abbiamo finito. Io vi rimando alla prossima. Un saluto.